Ciao ragazzi, sono Lizzy Green e oggi vi mostrerò cosa c'è di importante nel mio zaino. Ok, andiamo subito a vedere. Allora, la prima cosa che tengo nello zaino è, ovviamente, il mio telefono. E come vedete ha il vetro rotto. Per farla breve, mio padre mi ha detto di mettere una cover. Io l'ho tolta e subito dopo mi è caduto sul cemento. Ascoltate i vostri padri, amici. Molto divertente. E vediamo cosa c'è. Ecco qui una stupenda truce per il make-up. Ci sono un sacco di cose interessanti qui dentro. C'è uno smalto blu con i brillantini, perché per essere luccicanti ogni momento è buono. E anche un mini specchietto per controllare il viso. E poi il biglietto per i Kid Choice Award, che conservo come portafortuna. Il mio computer portatile. Ah, io adoro gli adesivi. E come vedete ce ne ho messi a tonnellate sopra. Mi piacciono questi alieni, perché sono ologrammi molto carini. Il mio raccoglitore, una specie di piccolo collage dei miei amici e del casto, molto divertente. E nella tasca ho messo i miei occhiali da sole, che sono ottimi come protezione per il sole. E il caricabatterie, il mio è di coloro arancione Nickelodeon. E poi c'è una cosa davvero indispensabile, le porto sempre uno con me. È uno sparacoriandoli. Ogni volta che mi sento felice per qualcosa, faccio così. Spero che quello che c'è nel mio zaino vi sia piaciuto, gente. E scrivetemi quello che c'è nel vostro e vi portate sempre dietro. E grazie per l'attenzione. Ciao! Ciao!